Ciao a tutti ragazzi, codice di confini marcati Allora oggi vi porto l'apertura di 10 pacchetti random di cui 1 la leggenda di Mew 2 richiamo delle leggende 2 di forze scatenate 1 di Ergos of Silver e altri 4 di Hs senza paura Allora adesso vi faccio vedere altri codici sempre di confini marcati però non so se sono ancora utilizzabili in quanto li avevo dati ad una persona questa persona mi ha detto che non funzionano per il gioco online mi sembra strano perché io non li utilizzo i codici quindi i codici che gli avevo dati erano nuovi comunque io ve li faccio vedere eventualmente se non funzionano bene se sono stati utilizzati va bene uguale allora i codici sono questi ok questi erano i 5 che mi diceva che non funzionavano ovviamente il primo che vi ho fatto vedere questo qui questo qui invece sono sicurissimo che non è stato mai utilizzato perché non l'ho dato a nessuno allora iniziamo ad aprire la leggenda di Mew ovviamente qui ci vuole un po' di pazienza perché non voglio rompere il pacchetto ok ha il trick qui non lo conosco quindi non lo faccio allora abbiamo Omanite Albero del Potere Albero del Potere Roselia Lapras Voltorb Sfil Tentacul Shappet e Geodud ok passiamo al richiamo delle leggende il fogliettino all'interno è sempre uguale quindi anche quello che vi ho fatto vedere nell'apertura random precedente quindi è inutile farlo rivedere allora ecco Donphan il Pokémon ubriaco incoraggiamento della Chill Leader Paineco Crefeir Mawile Tangela Magmar Quilava Reverse e Snorlax Raro andiamo con il secondo l'ultimo delitiamo delle leggende Registro delle ricerche Magby Seviper Marip Cicorita Fanfi Relicant Syndaquil Tangulot Reverse e Schermo di Raro Perfetto Adesso apriamo Forse Scatenate Allora Poliwhirl Damspace Schiamatsu Schiamatsu di Emsi Tartwig Stuntler Larvitar Orsi Roselia Pupitar Reverse e Reco e Reco sui cui leggenda che questa la scambio perché ce l'ho In questi pacchetti randolo non riesco a trovare le carte che mi mancano impressionante iniziano così i pacchetti allora circolatore di pokemon Kerrim Tauros Onyx Aipom Squirtle Cherubi Tartwig Ursaring Prime che si aggiunge insieme a leggenda le carte da scambio e Flosel un pacchetto soltanto di Edolson Silver e abbiamo Contropiede pokemon Blissey Slowbro Drogi Paras Sandswift Spinarrek Sunkern Corsola o Corsola Reverse e Tmontomp Olo Adesso passiamo con gli ultimi pacchetti di a queste senza paura a queste senza paura a queste senza paura Allora Slowbro Slowbro Leiron Sablei Pikachu Dodo Gligar Misdreus Maguire Metangreverse e Drifblin raro Un raro Allora Allora Adesso Doduo, Gligar, Misdrebus, Mawail, Rovine d'Alpha Reverse e Ambreon Nolo. Pinsir, Togetic, Energia Metallo, Snizzle, Stanky, Beldum, Rattata, Oddish, Beldum Reverse e Chiogre Grodon Leggenda. Ultimo pacchetto di questa apertura. Abbiamo Mac, Fioraia, Addestramento del Saggio, Togepi, Pikachu, Doduo, Gligar, Misdrebus, Scrigno, Leggenda Reverse e Schermo di Raro. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio sempre tutti per la visione e a presto, ciao!